ciao ragazzi noi siamo i magical dreams benvenuti nel nostro canale ufficiale io rappresento il fuoco e sono red io rappresento l'aria e sono aria io rappresento l'acqua e sono blu che cosa facciamo ma come cosa facciamo oggi disegneremo i nostri elementi ma adesso che ci penso io non so disegnare tranquilla giù di batite alla mano forbici alla mano elementi e ragazzi sono qui red aria e blu iniziamo io proverò a seguire le linee tratteggiate ma red aria le linee tratteggiate non va bene va bene dai però non è giusto ma che ci fa ma anche con le linee tratteggiate ho sbagliato no come sbagliato io sono pronto a tagliare i miei sono rosse vedete sono rosse non c'erano già le ho prese verdi mi sono blu oppure andate in una tipografia ve lo fate stampare direttamente ma no red bisogna essere creativi esatto chi finirà prima no e ho finito anche io io no la mia è una s s di simpatica wow mi piace ecco facciamo due striscioline io sono blu e io sono aria ma è un po bruttina e io sono neb molto 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 carina questo è perfetto andate nella vostra stanzetta fatemi comprare un cartoncino nel caso in cui non ce l'aveste e scegliete il vostro elemento preferito il mio simbolo è il fuocherello il mio simbolo è l'aria il mio simbolo è l'acqua e il vostro qual è bene ragazzi se vi siete divertiti mi raccomando mettete un like a questo video condividetelo e soprattutto non perdete gli altri video ci vediamo al prossimo video ciao faremo il barbecue ciao